Il gruppo del Tribunale di Bari, Luigia Lambriola, ha condannato 23 imputati, appena comprese tra i 30 anni e i 2 anni 8 mesi di reclusione, e ne ha assolti altri due al termine del processo, con rito abbreviato sulla guerra di mafia tra il clan Parisi-Palermiti e il gruppo criminale capeggiato da Antonio Busco, che si consumò a Bari nella primavera del 2017 per il controllo del traffico di droga. Nel processo sono contestati due agguati del 6 marzo 2017, quando venne ucciso il pregiudicato Giuseppe Gelao e ferito Antonino Palermiti, nipote del boss Eugenio, e del 12 aprile, quando fu assassinato in risposta a quel delitto il pregiudicato Nicola De Santis, vicino a Busco. Quella sera un proiettile forò anche la porta di un'aula del liceo Salvemini nel quartiere Iapigia di Bari, fortunatamente senza provocare vittime. Per l'omicidio Gelao sono stati condannati a 30 anni di reclusione Davide Monti e Giuseppe Signorile Busco, terzo co-imputato per il delitto e a processo davanti alla corte d'assise. Per l'omicidio di De Santis è stato condannato alla pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione il collaboratore di giustizia, Reo Confesso, Domenico Milella, ex braccio destro del boss Palermiti, per il quale il giudice ha riconosciuto uno sconto di pena per la collaborazione. Gli altri 20 imputati, condannati appena dai 9 anni ai 2 anni e 8 mesi di reclusione, rispondono delle cosiddette stese in stile camorristico, incursioni di gruppi armati a bordo di decine di moto che sparavano in piena notte nelle strade del quartiere interi caricatori di mitragliette. Tra questi ci sono i pluri pregiudicati, Radame Sparisimi, Chele Ruggeri, Attilio Caizzi, Filippo Minecce, Raffaele Addanante. I PM della DDA di Bari, Fabio Buquico, Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano contestavano loro a vario titolo, i reati di detenzione di armi, droga e pestaggi assolti, Giovanni Palermiti e Umberto La Firenze.